Tutti i soccorritori hanno tirato un sospiro di sollievo quando i cani delle unità cinofile dei vigili del fuoco giunte da Palermo ed Enna hanno ultimato l'ispezione sul luogo, la spiaggia di Marianello, a Licata, in cui ieri mattina è venuta giù una parte delle timpe e i calanchi che caratterizzano questo tratto di costa ricatese. Due esemplari di labrador appositamente addestrati per un'ora si sono mossi sul luogo del crollo e non hanno fiutato nessuno sotto l'argilla che componeva parte della timpa crollata. Le verifiche si erano rese necessarie in considerazione del fatto che non c'erano testimoni oculari del crollo. Più di un bagnante aveva ripreso con il telefonino, l'accaduto, ma erano lontani, oltre 50 metri dalla timpa, perciò non c'era certezza che sotto le macerie non ci fosse nessuno. Quando i cani da ricerca hanno eliminato del tutto il dubbio, sul posto è entrato in azione un scavatore che ha provveduto ad approntare, con la stessa argilla crollata, una sorta di diga di contenimento per eventuali altri crolli del calanco. Ieri mattina a Marianello, quando si è verificato il cedimento della falesia, i bagnanti sono entrati nel panico. Il mucchio di argilla è venuto giù e si è depositato nelle decenze dell'area dove c'erano delle auto in sosta e in prossimità di un lido balneare. Per fortuna non stava transitando nessuno nel punto esatto del crollo. Una volta lanciato l'allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno constatato la situazione ai vigili urbani. Il comando di Polizia Municipale, attraverso la sua pagina Facebook, ha postato intendiamo rassicurare la cittadinanza informando che nell'odierno episodio di smottamento a Marianello non si sono registrati danni a persone e cose. Sul posto è giunto qualche ora dopo anche il sindaco Pino Galanti, che era di ritorno da Agrigento dove aveva avuto un impegno istituzionale quando è stato informato del fatto accaduto a Marianello. Non è la prima volta che si verificano casi simili in questo tratto di costa. La Guardia Costiera, in un dossier che ha messo in chiaroscuro tutte le zone a rischio idrogeologico in Sicilia, ha segnato appunto la maglia nera proprio al comune di Licata, con un giudizio insufficiente e un punteggio disastroso pari a zero.